Che novità ci sono? Il primo dato, abbiamo appena oggi completato la riunione della Task Force e del Comitato per la Sicurezza e quello che emerge è che ad oggi in Italia non circola il virus. In Italia abbiamo sempre tre casi, i due cinesi turisti anziani ricoverati allo Spalanzani e il giovane italiano che è rientrato da Wuhan e che ha dei sintomi modesti sostanzialmente ma è controllato. Altri casi di positività al virus non sono segnalati ad oggi in Italia.